La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto tre palermitani di 29, 39 e 59 anni, ritenuti responsabili di rapina gravata in concorso e ricettazione. I provvedimenti restrittivi emessi dal GIP presso il Tribune di Palermo sono gli esiti di laboriose indagini che hanno visto collaborare in sinergia i poliziotti della mobile palermitana e i colleghi del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica Sicilio Occidentale, in seguita ad una rapina consumata nel dicembre del 2022 ai danni di un distributore di carburanti di Corso Calatafimi. In quella circostanza, due dei tre uomini con il volto travisato e dietro minaccio si facerono consegnare da un addetto la somma di 13.500 euro appena prelevati dalle casse self-service per poi darsi alla fuga a bordo di una Fiat Panda, risultata rubata qualche giorno prima e ritrovata poi abbandonata nel quartiere del villaggio Santa Rosalia, subito dopo la rapina. Essenziale per le indagini l'analisi delle tracce biologiche repertate all'interno dell'abitacolo del mezzo, usato per compiere l'assalto, in particolare sui moziconi di sigarette che hanno consentito di risalire al DNA di due dei tre sospettati. Il resto lo ha fatto la scrupolosa ricognizione dei sistemi di videosorveglianza, sia quelli di pertinenza del distributore che quelli sulla zona, che hanno consentito di ricostruire le fasi antecedenti e susseguenti il compimento della rapina. Inoltre, tali tracce visive hanno registrato alcuni particolari fondamentali ai fini di identificazione dei presunti autori, dagli indumenti indossati alle caratteristiche fisiche, poi corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima, nonché il percorso effettuato per guadagnare la fuga verso il villaggio Santa Rosalia. Sulla scorta di quanto accertato, si è giunti pertanto all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti dei tre rapinatori. Due dei tre presunti responsabili, rintracciati dagli investigatori della squadra mobile, sono stati condotti al termine delle formalità di rito presso la casa circondariale Lorusso Pagliarelli, mentre il provenimento a carico del terzo è stato notificato in carcere dai poliziotti, poiché detenuto per altra causa.